musica 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 sono qua di barbone ho sentito che non sono fanno io sono diversi mesi però ho decimato di vedere un nuovo signore ho sentito oggi con molta attenzione la discussione e tutte le cose che sono state dette da parte dei cittadini credo che arrivati a questo punto a tutti noi non servono i nomi a parlare di all'impotente e di quant'altro credo invece che la cosa più evidente è la drammaticità che ogni famiglia vive nel proprio contesto e questo è la cosa sulla quale bisogna discutere io per quanto mi riguarda credo in questa parere che questa maggioranza non è stata sufficientemente attenta a quelle che sono le politiche e decidere e questo io pubblicamente faccio un passo dietro e mi dipendo da capoglioni di questa attenzione Grazie.